Il Consiglio Comunale di Quarto ha approvato ieri mattina il piano di riequilibrio finanziario pluriennale. Il piano di copertura finanziaria prevede una durata di 10 anni e rate annuali di 110.000 euro per i debiti esigibili a copertura di 1.116.000 euro. Per i debiti non esigibili è stata individuata copertura con fondo rischi legali di 670.000 euro, la rata annua di 112.000 euro per copertura e i 570.000 euro per la manutenzione ordinaria. Il piano di riequilibrio prevede inoltre maggiori introiti grazie all'installazione nell'ultimo anno di 900 contatori idrici che presumibilmente porteranno nelle casse comunali 311.000 euro. 1.050.000 euro saranno reperiti grazie ai condoni e i permessi di costruire previsti per il 2017 in virtù di pratiche già esaminate. 270.000 euro arriveranno dalla tassazione IMU e 250.000 è la cifra che, secondo le stime di chi ha redatto il piano di riequilibrio, arriveranno dalle strisce blu. Altri introiti andranno a rimpinguare le casse comunali grazie alla compensazione dell'IVA a partire dal 2017. Circa 700.000 euro entrate annue. Ma c'è chi sul documento ha sollevato più di una perplessità e si tratta del consigliere Brescia che ha preferito abbandonare il consiglio prima della votazione. Al momento in cui io stavo abbandonando l'assise sono venuto a conoscenza che il parere del funzionario alle finanze del comune è stato modificato e è stata fatta una integrazione a quello che io ero entrato in possesso. Non conoscendo quello che è stato integrato io non ho potuto preparare un intervento per dare una risposta in aula consigliare anche perché non so quali sono state le pressioni che sono state fatte su un caposettore che sono state fatte nella notte o se le sono inventate. Il consigliere entra anche nel merito dicendosi perplesso rispetto alle misure previste dal piano. Guarda io in merito al riequilibrio già i pareri erano negativi e io avevo le mie perplessità perché sto da alcuni giorni dicendo che per me il comune non è in predistesto ma è in distesto finanziario. Poi altre cose che non ho condiviso, che non ho visto bene sono il fatto che loro vogliono riattivare anche le strisce blu e poi non si fanno interventi nelle scuole perché dicono che non ci sono soldi non si fanno interventi per le strade, non ci sono soldi non pagano queste benedette ditte che stanno facendo i lavori sul territorio perché dicono che non ci sono i soldi quando poi quelli sono dei fondi stanziati e già sono in bilancio quindi io mi faccio delle domande in me stesso e dico ma questa amministrazione se non riesce a portare tutte queste cose avanti perché non se ne va a casa? Molto critici sul piano di riequilibrio finanziario anche i Verdi di Quarto che hanno definito l'ultimo consiglio comunale l'emblema dell'irregolarità morale e giuridica. Hanno adottato un medodo illecito e irregolare hanno convocato un consiglio comunale senza dare la possibilità ai consiglieri di visionare i documenti quelli necessari per l'approvazione molti di questi documenti sono stati addirittura posti in essere successivamente e poi hanno fatto un provvedimento nottetempo alle 23 del giorno prima del consiglio obbligando il caposettore in qualche modo a integrare un parere e questi documenti che dovevano costituire la base dell'esame di un voto consapevole dei consiglieri non sono stati offerti nei tempi adeguati c'è stata una forzatura illecita e arbitraria di tutte le regole del contraddittorio e in piena violazione a tutte le leggi del caso. Ma il caposettore intanto formula un nuovo parere sostanzialmente identico a quello precedente cioè negativo il caposettore ha dovuto prendere posizione su una delibera partorita di notte replicando anche a delle accuse molto gravi che sono state contenute in quegli atti in particolare la giunta ha accusato il settore finanziario di essere in qualche modo responsabile di uno stato confusionario il caposettore respinge questa accusa al mittente sottolineando che forse qualcuno sperava che così fosse ma fortunatamente il caposettore stesso racconta la verità cioè questo comune non ha possibilità di sopravvivenza economica per l'incapacità degli amministratori. grazie a tutti grazie a tutti